buongiorno devo dire cosa è successo perché sono piena proprio miei scusa pali che non ce l'ho però ce l'ho già e sono pieni di quelle cose quelle mi stanno facendo sistema di stalking organizzato di gang stalking da tempo sono sotto questo vergognoso programma di perseguizione gente e di stalking organizzato di decine di uomini perseguono e rovinano vita di una donna singola ma che vergogna veramente ieri cosa è successo allora nel pomeriggio anzi ora di pranzo sono in porta carabiniere e porta portato un foglio io sono qua sto facendo curi per questo quale saluta sto perdendo a proposito vedete questi animaletti quale mi aiutano anche stare meglio sotto quello e lui mi chiama in porta portando un foglio un foglio di che cosa un documento di e scrive subito firmare naturalmente devo leggere prima di firmare un foglio lui mi da un foglio io ho letto quelle foglio porta chiusa perché lui voleva accomodarsi non c'è da accomodarsi perché con tutta coperta di di questi cosi lasciato fuori porta ho letto foglio dove c'è scritto indagini preliminari finiti e sono colpevole 635 che quattro ruote di un smart fofo di nicola sassi o bucato signori non sono nicola sassi non sono mai avvicinata di quattro ruote di questi ruote di fofo non so cos'è non so che naturalmente che un stalker quale è fatta ancora una denuncia falsa di 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 cose quale io ho mai fatta non è bucata un gonne mai di una smart non so chi gira quel smart non so nicola sassi non conosco a golf arancia abitava una volta dove sono stata stalkalizzata dove sono avvelinate miei cani e altri portati via dove sono stata sotto stalking organizzata tre quattro mesi e ho perso tantissima salute lì e allora è che basta e da lì ancora c'è una foglio ecco ancora una goccia su questo nervi quale ragazzi ma quanto si può ma quante cose cadono sulla testa di una donna quale non colpevole in niente quale cerca di vivere normale amava animali animale amava cani hanno portato via tutte le mie roba materiali tutta roba tutta casa stata rubata contenuta della casa si faceva translocco due computer cellulari macchina sono stata bruciata adesso anche abito in un palazzina di via solari 7 all di stalking dove organizzata stalking di condominio c'è tantissimo arrivano a casa sempre e rovinano mia roba quale presa cielo pochissima quale rovinata tutte scarpe tutte tutte guarda roba e anche cibo cibo continuo riempire di cose chimici e c'è un stalker principale quale mi sta facendo un anno e 7 queste cose rubata ultimamente due giorni fa camera video sorveglianza quale io ho comprato nuova ancora arrivato io ho mai messa e già non c'è più questi segni di questa camera e allora è continuo e adesso è arrivata ancora una denuncia e questi denunci per naturalmente ripulirsi da questa schifezza che mi buttano addosso servono avvocati avvocati devono essere pagati come non lavoro non mi permettono di lavorare mi da lavoro mi fanno mobbing mi fanno tantissimi solo chiamano per fare mobbing stalking lo stesso al lavoro per trattare male non permettermi di lavorare aggredire non permettere l'ora insomma qualsiasi modo di disturbare nervosire aggredire e così naturalmente io dico che questo è mobbing non ci sto e naturalmente che vado via allora non ho guadagno non c'è guadagno anche se qualche giorno riesco a lavorare naturalmente e devo pagare i affitto e devo pagare da mangiare gli avvocati quale c'è esiste anche patroncino gratuito ma nessun avvocato non muove un dito per patroncino gratuito a proposito per una target individuale per una meta quale proprio sotto questo perseguizione questo sotto questa distruzione perché avvocati purtroppo corrotti manipolò corrotte o manipolati o fanno cosa fanno fanno anche aggrediscono anche avvocati che danno la mano capito questo sistema di stalking quale manipolo anche sistema giudiziario adesso è arrivato livello di stalking giudiziario quale mi stavano facendo io ho già parlato con dicine di avvocati quali forse anche ventina quali già già sentito di me qualcosa come da stalking da sistema da stalkers già assistito sentito di me qualcosa di brutto avvisano che insomma ce l'ho forse tantissimi processi perché denunci non è una e non è due più denunci quali denunci denunci falsi di stalking contro di me assolutamente tutti i denunci falsi invece queste denunci vanno avanti miei denunci di cose rubate che rubano che mi picchiano che mi hanno stato picchiato al lavoro capito da un stalker stato picchiato al lavoro proprio pensato tantissimo naturalmente cosa non poteva mai succedere che non da stalker perché non c'è nessuna base essere aggressivi così e bevuto quel cameriere bevuto bevuto così tanto che alla fine coraggiato per anche allungare la mani mettere addosso me di questo sistema di stalking quale sta proprio distruggendo la vita non lo so ragazzi come trovare quell'avvocato che lavora per me dovrebbe essere pagati e chiedono tanto avvocati e poi neanche se anche se pagato avvocato già ho pagato avvocato una volta due volte tre volte ma risultato non ho visto che lavorano per me anzi lavorano contro di me avvocato di una di patroncino gratuito ma lo stesso lavora contro di me non è chiamato neanche a me non è chiesto neanche testimoni per una cosa da me da altra controparte lui è chiamato mi ha detto testimoni ha detto ma e noi perché non mi chiesto testimoni ma insomma due anni fa ma lui due anni fa non non è studiato neanche a fascicolo due anni fa non c'è testimoni ma due anni fa lui ha detto che cosa finisce subito allora non devo studiare fascicolo neanche ma cosa continua allora servono testimoni ma ci sono qualcuno naturalmente si può trovare qualcuno ecco anche avvocato difficilissimo trovare perché avvocati o corrotte o manipolati o preparate proprio lavorare contro il proprio anche brava gente se mani ma bravo avvocato manipolano loro perché dicono qualcosa di di schifezzi qualche schifezzi di me quali loro vogliono avvocato mi ha risposto uno voglio stare tranquillo ma certo che deve stare tranquillo non stai tranquillo ma lavora per me ma qualcosa ha detto di me da 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 questi stalker e allora loro quali indipendenti più indipendenti bravi non lavorano per me per questo motivo allora questo è già superato tutti i limiti datemi un consiglio cosa fare cosa pensate come posso uscire da questa situazione quel vergognoso stalking deve finire dove dove sono dove forse di ordine dove forse di ordine fanno stalking mi ha detto proprio facciamo noi stalking mi ha detto in faccia come posso chiedere a loro aiuto che non è tutti naturalmente che c'è bravi ma quelli corrotti e dicono noi facciamo stalking svetlano noi facciamo stalking io vado a denunciare contro stalking loro mi dicono noi facciamo stalking e tre anni nessun ufficio di carabinieri di sante adoro di golf aranci di olbia non mi ha citato mai una denuncia di stalking dicono che non esiste mi mandano via prendi avvocato portati qua avvocato avvocato anche dicono che stalking non esiste questo organizzato di gruppo mi raccontano un sacco di cavolate solo stalking questa da un ex marito da un fidanzato da tuo convivente questo stalking loro solo esiste per giudizio ma stalking di gruppo che possono organizzare persone cattive in gruppo e organizzarsi contro una persona e non esiste dicono come non possono esistere che questi movimenti fanno mafia non esiste esiste sempre come possono dire che stalking organizzato non esiste a me dicono in faccia e non accettate mai denuncia io faccio denunce quelle quali normale ogni cosa ogni caso diverso ma tutte archiviano tutte cose archiviano altri altri spariscono proprio come non esistono non c'è neanche in procura non arrivano neanche in procura questa cosa che sta succedendo ragazzi aiutatemi date consigli datemi vostro appoggio perché così non può essere non si può non possono fare questa rovinare così la vita non possono rovinare così la vita no vita deve essere vissuta bene ogni giorno e non ogni giorno ravvinato aspetto vostri consigli ho bisogno di voi tanto bisogno di voi tanto tutti che ho bisogno di voi Grazie.